Qua non è fatto, qua non è segnale Allora io sono Donato, Gionato Dovanni E sono un amico di Elimotobor Mi conoscerete sicuramente per il video al Combi Combi Parca Andatelo a vedere qua a lato Oggi filmo io perché Elimotobor è molto malato Ha una piccola frattura alla clavicola E ci troviamo in discesa con una discesona pazzurda ragazzi Dai Cambiato sport Vai vai Via questa parte Adesso esplorazione nel senso che non so neanche io dove va Vai Donato Qua cosa c'è? Ma? Bello Ma? Non l'avevamo vista quella parte lì Qua non è fatto, qua non è segnale Non è segnale Non siamo Che che hai sentito è? È bellissimo Che passaggio ci sa uno? Lì c'era la roccia Ma lì ho saltato ma c'era tipo una punta che viene su Ma lì ho saltato Ma lì ho saltato Ma lì ho saltato Bravo Dona Grazie Sì Sì Uff Porca Aaaa Spiro 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 Grazie. 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 Grazie.